Bentornati a Scatena l'aperitivo con Rustica. Bruno, ma dimmi un po' la tua fidanzata, com'è che l'hai conosciuta? Roberto, storia lunga, ma stai per caso anticipando il tema della nostra puntata? Certo che sì, perché oggi l'aperitivo lo scateniamo a lume di Camillerato. Roberto, guarda qui, ti svelo qualche piccolo segreto per conquistare la tua fidanzata. Bruno, ma io ho il mio piccolo segreto, ce l'ho già, la Rustica ovviamente. Questo aperitivo Roberto è amore a prima vista. Vedi che funziona? Alla prossima puntata! Ciao!